Musica Vigili del fuoco in festa per la patrona Santa Barbara, Santa Anastasia, la messa con il Vescovo Domenico. Sarà ricordato questa domenica 8 dicembre alle 16 in cattedrale con una santa messa Monsignor Settimio Ferrazzetta, sacerdote veronese e Vescovo di Bissau nel centenario della nascita. In vista della giornata del volontariato di domani si è tenuta questa mattina in comune la consegna delle targhe degli attestati alle associazioni che gestiscono i 15 centri di comunità nel territorio di Verona. Buonasera, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telepace. L'apriamo con l'attività del Papa, l'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, il ruolo dello Spirito Santo nella predicazione della Chiesa. Questo è il tema della catechesi odierna. In occasione dell'udienza generale è anche iniziato un servizio particolare, il servizio di traduzione in lingua cinese. Il Papa ha invitato non a predicare senza pregare, ma a predicare se stessi il servizio. Una catechesi dedicata al ruolo dello Spirito Santo nella predicazione della Chiesa è quanto ha proposto oggi Papa Francesco nel corso dell'udienza generale da piazza San Pietro. Qui il Papa è invitato a ripartire sempre dall'annuncio di ciò che Cristo ha fatto per noi, sottolineando proprio come dall'annuncio che rigma dipenda ogni applicazione morale. Annuncio che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, ha precisato il Papa, lo è in senso qualitativo perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e saggio di tale annuncio, ha ribadito il Papa, aggiungendo come la predicazione della Chiesa debba fare ciò che Gesù disse dall'inizio del suo ministero pubblico, predicare con l'unzione dello Spirito Santo, trasmettendo insieme con le idee la dottrina, la vita e la convenzione della nostra fede. Tutto questo significa fare affidamento non su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza. Guai a predicare senza pregare, ha detto Francesco, e da qui l'invito ai predicatori messi in guardia da prediche troppo lunghe. La prima cosa che dipende da noi è pregare perché venga lo Spirito Santo, ha spiegato Francesco la seconda, e non volere predicare noi stessi ma predicare Gesù Signore. Non volere predicare se stessi implica anche non dare alla precedenza iniziative pastorali promosse da noi e legate al proprio nome, ma collaborare volentieri, se richiesto, a iniziative comunitarie o affidateci dall'obbedienza. E questa l'altra raccomandazione del Papa. Oggi è stato anche dato l'avvio alla lettura della sintesi della catechesi in lingua cinese, come aveva preannunciato il Papa lo scorso mercoledì, che è rivolto ai fedeli in lingua italiana, ha invitato a pregare per la pace e per i paesi in guerra, aggiungendo, la guerra è una sconfitta umana, non risolve i problemi, è cattiva, distrugge. Proseguiamo il nostro Tg con un'altra notizia della pagina ecclesiale. Il 4 dicembre 1954, 70 anni fa, moriva un santo caro a tutti, in modo particolare ai veronesi, Don Giovanni Calabria. Subito la notizia in quel 4 dicembre si spargeva a macchia d'olio in città, tanto che poche ore dopo iniziava un'interminabile processione di persone che salivano sul colle di San Zeno in Monte per rendere omaggio al fondatore dell'opera dedicata ai fanciulli poveri. Tre giorni dopo, il 7 dicembre, in una giornata gelida, una folla senza precedenti si riversava per le vie del centro per partecipare al corteo funebre fino alla chiesa di Santa Anastasia. Ed ora veniamo alla festa di oggi, la festa di Santa Barbara, i vigili del fuoco in festa per la loro patrona. A Santa Anastasia la messa con il Vescovo Domenico, poi altri appuntamenti con la cittadinanza. Sono più di 10.000 gli interventi effettuati dal corpo in questo 2024 con un preoccupante incremento per gli incidenti stradali, il servizio di Marina Zerman. L'elmo, il cordino, la lancia antincendio, il cinturone e altre parti dell'equipaggiamento dei vigili del fuoco sono stati portati in dono alla processione offertoriale durante la messa preseduta dal Vescovo Domenico a Santa Anastasia per Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco. Oggetti che richiamano comportamenti e azioni, la sicurezza, l'appartenenza, la determinazione, la collaborazione e il dialogo che ogni vigile del fuoco porta con sé ogni giorno, nelle emergenze e nelle quotidianità che incontra. Un impegno notevole sicuramente. Io ho ringraziato oggi i miei uomini per la loro professionalità e competenze che ci mettono per dare il miglior soccorso alla popolazione. In un anno dal 30 novembre 2023 al 30 novembre 2024 sono stati 10.225 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, con l'8% in più rispetto al 2023, ma ad aumentare sono in particolare gli interventi per gli incidenti stradali, il 25% in più. Quello è un dato veramente che ci preoccupa. Come ho detto c'è stato un aumento degli interventi, circa 10.000, un 8% in più, ma il dato che è salta è un 25% in più degli incidenti stradali, mentre gli incidenti, devo dire, sono in linea con il dato precedente. Però, come ho detto prima, preoccupa tantissimo il 25% in più. Quest'anno i vigili del fuoco hanno partecipato anche a una missione in Antartide per quattro mesi. Nell'Omelia il Vescovo Domenico ha ricordato tre caratteristiche dei vigili del fuoco. La capacità di agire, non imprecando contro il destino, ma mettendosi effettivamente in azione. La capacità di suddividere i compiti di fronte ai pericoli. Il dare se stessi con generosità per permettere la sicurezza altrui. In chiusura, nelle interviste ai giornalisti, il comandante dei vigili del fuoco Porrovecchio ha anche accennato alla costruzione della nuova caserma con la posa della prima pietra che sarà fatta a gennaio alla Genovesa. Ed ora proseguiamo ricordando un altro grande uomo della Chiesa. Sarà ricordato questa domenica alle 16 in cattedrale con una Santa Messa. Monsignor Settimio Ferrazzetta, sacerdote veronese e vescovo di Bissau, missionario instancabile che ha lasciato un segno indelebile sia nel paese africano come pure nel paese veronese. La celebrazione arriva a chiusura dell'anno centenario della sua nascita. Un anno straordinario, quello organizzato dalla rete guinea Bissau, nata 25 anni fa, nel novembre del 1999, a pochi mesi dalla morte di Monsignor Ferrazzetta, avvenuta a gennaio dello stesso anno. Rete ideata dallo stesso Ferrazzetta è nata per continuare la grande collaborazione tra Verona e il paese africano. Qui nel 1955 era arrivato come giovane frate e ha continuato a lavorare con grande impegno, ordinato poi vescovo nel 77 dell'unica diocesi cattolica di Guinea-Bissau. Abbiamo aperto l'anno centenario in suo ricordo a Selva di Progno, il 10 dicembre dell'anno scorso, e in quest'anno abbiamo cercato attraverso degli eventi, attraverso un libro che ha scritto Don Sergio Marcazzani, attraverso una mostra itinerante e una mostra permanente a Selva di Progno, di far conoscere la figura del vescovo Ferrazzetta. Domenica prossima, 8 dicembre, chiuderemo l'anno centenario con una celebrazione in cattedrale alle ore 16, dove parteciperanno diverse autorità religiose e civile e la celebrazione sarà preceduta dal vescovo Domenico. A testimoniare la straordinarietà del vescovo, le parole di uno dei tanti guineiani arrivati in Italia, inviati da Monsignor Ferrazzetta per studiare, Fernando, rimasto poi nel nostro paese, ma ancora è tanto impegnato per la Guinea, attualmente presidente della Commissione Politica e referente per l'Europa del primo partito guineiano. Ricordiamo cosa sta facendo ancora oggi nel suo 25esimo anno la rete Guinea-Bissau. La rete Guinea-Bissau sta lavorando in Guinea-Bissau con quattro progetti, un progetto sulla salute, un progetto sull'istruzione, un progetto sul microcredito e un progetto per sostenere il seminario delle diocesi di Bissau e di Baffatà. Torna questo venerdì sera la preghiera giovani, appuntamento alle 20.45 in cattedrale per un forte momento di spiritualità dedicato a tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni, la Chiesa Giovane della Diocesi di Verona insieme con il loro pastore e il loro Vescovo Domenico. Anche venerdì sera la preghiera sarà scandita dall'ascolto della parola di Dio, poi una breve riflessione del Vescovo Domenico e poi un momento di silenzio e meditazione personale. Durante la serata è anche prevista la presentazione ufficiale dei pellegrinaggi estivi per i giovani nel prossimo giubileo 2025. Ed ora proseguiamo con un'altra notizia in vista della giornata di domani, la giornata del volontariato. Si è tenuto questa mattina in comune la consegna delle targhe e degli attestati alle associazioni che gestiscono i 15 centri di comunità nel territorio veronese. Si sono tenute questa mattina in sala razzi le consegne delle targhe alle associazioni di volontariato che gestiscono i centri di comunità. Sono 15 quelli presenti a Verona, nati tre anni fa sulla scia dei centri per anziani. Si rivolgono oggi a tutta la cittadinanza, muovendo un gran numero di volontari e mettendo in rete servizi ai cittadini. Noi proponiamo praticamente in tutti e tre i centri momenti di svago, quindi ballo, animazione, poi proponiamo momenti di rilassamento, quindi ginnastica, camminate della salute, yoga e poi anche una parte culturale con incontri, manifestazioni. Grande la soddisfazione dei volontari che per la prima volta hanno avuto un riconoscimento di questo tipo per un lavoro incessante, spesso svolto nel silenzio di un impegno quotidiano. Targhe attestate sono stati consegnati dagli assessori Benini e Ceni, quest'ultima da poco assunto la delega al terzo settore. Presenti in sala i rappresentanti delle associazioni La Rete, Prosse Nectute, Fevos Verona, Santa Toscana, Spazio Aperto Cooperativa, Movimento Cristiano Lavoratori, Circolo Acli Verona Sud, Gruppo Promozionale Quartiere Trieste, Associazione Valpantena, Associazione Corteccia, Hauser. Sono due centri di comunità, all'interno c'è un gruppo teatrale, un coro musicale, si fa delle attività per i bambini, cioè dopo scuola soprattutto per i bambini più disagiati, che non ha nessuna casa, e poi le attività di cultura e di divertimento, perché quelle servono per mantenere le relazioni tra i cittadini e renderli più coesi. Da pochi mesi a Montorio c'è un centro di comunità, quanto è importante per la popolazione e cosa fate? È molto importante per la popolazione, quello che vogliamo fare e speriamo anche di fare nel futuro è proprio creare un centro dove si possono accogliere diverse fasce di popolazione, quindi da bambini a famiglie a persone un po' più anziane. C'è bisogno di una manutenzione straordinaria all'organo della Basilica di Madonna di Campania. Per promuovere i prossimi lavori si terranno una serie di eventi, il primo nella solennità dell'Immacolata, il prossimo 8 dicembre, con il coro polifonico Città di Villafranca, appuntamento a partire dalle ore 16. Il servizio di Lucio Fasoli. La chiesa di Madonna di Campania, nel quartiere di San Michele, zona est di Verona, chiesa diventata basilica negli anni Ottanta, aveva impreziosito questa intitolazione con l'acquisto di un organo nuovo, che per anni ha animato celebrazioni e momenti di preghiera in parrocchia, organo che oggi risente gravemente del passare degli anni, e dopo un riassetto che lo rende utilizzabile ancora per qualche settimana, è previsto una necessaria manutenzione straordinaria, che diventa un impegno economico importante. Per questo motivo parroco e alcuni fedeli volontari stanno organizzando eventi per sensibilizzare la raccolta fondi, a partire da questo 8 dicembre, giorno dell'Immacolata, con un concerto speciale. Il primo appuntamento che noi abbiamo sarà domenica 8 dicembre alle 16.30, qui in Basilica, dove il maestro Paolo Buro e il coro polifonico Città di Villafranca ci allieteranno con un coro spirituale, e dove appunto cominceremo questo percorso di rivalutazione dell'organo. Creeremo un cartello culturale di eventi, di incontri, proprio per valorizzare, uno, la Basilica, e due, con l'aiuto dell'organo sicuramente faremo un lavoro ancora più importante per essere un punto di ritrovo culturale, non solo per Madonna di Campania, ma per la città di Verona, diciamo. Altro appuntamento in calendario, domenica 22 dicembre, ideato e organizzato da diversi gruppi parrocchiali. Tutto per sensibilizzare alla manutenzione dell'organo, strumento necessario per animare le celebrazioni liturgiche. Certamente l'organo è uno strumento importantissimo, non solo nella liturgia, ma anche a coinvolgere i vari cori, come persone che costruisce la rete della relazione. Quindi l'organo è una cosa importante, in modo tale che, come dice anche Sant'Agostino, chi canta bene prega bene. Quindi l'organo aiuta a elevare l'anima verso il cielo ancora di più, oltre che creare le relazioni. E con questa iniziativa andiamo a chiudere il nostro TG. Grazie per averci seguito e arrivederci. A domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.